Qualche secondo di silenzio, perché pare che questo telefono faccia partire in ritardo l'audio. Allora, cari amici della prognotomia, io vi saluto e vi auguro una domenica. Oggi, sempre sbarbata qua in montagna, dove mi piace passare almeno un giorno, una settimana, un weekend, dove non lavoro, e ho messo a bagno il pennello di maiale, amici della parola mia, eccolo qua. Quindi vediamo di scoprirlo. Allora, è arrivato dalla Russia con, devo dire, un certo tempo, però è normale, con i tempi che corrono, che le spedizioni non siano rapidissime, però è arrivato molto ben confezionato questo colibri. Qua, tutto scritto in russo, comunque vuol dire colibri, che è della home-like shaving, eccolo qua. che secondo le intenzioni della ditta, dovrebbe essere un po' come dire lo sviluppo, il seguito del... quello che per me è uno dei migliori rasoi in circolazione, con un rapporto quali da prezzo eccezionale, che l'online shaving start, eccolo qua. Quindi io apro con voi, che andrò già aperto, i colibri, vedete, io apro solo un pettine, quello da 0,80, che mi sembrava già tanto. Qua c'è la garanzia della ditta. E qua c'è il rasoio, che è completamente, un po' diverso dall'altro. Allora, intanto, questo è più massiccio, mi sembrano. Il pettine è diverso, è diverso, molto più, io trovo più piatto questo. E il manico è più lungo, come volete vedere. Spero che si veda, non di tantissimo, ma abbastanza. Un grip molto, molto importante. Io devo dire che sono stato tradito la prima volta, perché l'ho utilizzato con 0,80, ho detto, ma è una posizione importante, con una lama, diciamo, non particolarmente tagliente, come una trit, e il risultato non è stato eccezionale. Poi ho detto, ma non è che questo forse è stato pensato da usare lame più incisive, no? E allora ho detto, ma proviamo ad esempio ad usare una feather. E il risultato è stato migliore, anzi è stato perfetto. Oggi usiamo un'altra lama, usiamo un'altra lama efficace, come ad esempio la nuova King Sea Gillette. Eccola qua, una Platinum, ecco qua, King Sea Gillette. La proviamo con il Colibri 080 della Omni-Sharing. Anche qua si è un infarto morasoio d'acciaio assolutamente stainless steel, estratto, credo, dal pieno, come si dice, non stampato, a un prezzo assolutamente competitivo. Quindi su questo la ditta russa ha mantenuto i suoi standard qualitativi e anche di rapporto qualità-prezzo molto molto favorevole. Faccio vedere il pettine che è ovviamente numerato. Anche qua, con tutte le caratteristiche, la scritta è in russo, però il gap 080, serial number, insomma, tutto molto serio. Ecco qua. Prima cosa che, differenza che notiamo, il pettine. Allora, rispetto allo start, guardate come questo pettine sia più piccolo. Lo vedete? Infatti la lavora sporge un po'. Ho immaginato, ma questo è lo start e questo è il Colibri, che appunto la definizione di Colibri sia questa maneggevolezza, questa maggiore precisione di rasatura. non il Colibri è un uccello piccolo, quindi che va agile. Quindi penso che sia questa l'intenzione della casa. Ecco, l'esposizione del 080 che però, ripeto, con un nome poco efficaci, lasciate un po' che trova. Allora, crema. Questa me l'ha regalata il mio fratello dell'Uruguay. Dottor Selby. Dottor Selby. Crema alla lavanda. Eccola qua. Allora, crema di afetara alla lavanda. Non si legge molto però. Montevideo, Uruguay, eccola qua. Quindi andiamo a provarla con il nostro pennello di maiali che è stato messo a bagno. E adesso gli diamo ancora una sciacquata in acqua calda per renderlo ancora più, se possibile, morbido. Ecco qua. Ecco qua. Allora io... Ecco la dottor Selby. Dottor Selby. shaving cream. Luxury. Vittura. Siamo sul lusso. Allora, io metterei... Farei un montaggio in... 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 Viso. Perché è una crema molto morbida. Quindi metterei... Verde. Guarda che roba. Verde. Ne metterei un po'. Perché non è che esce proprio così. Ecco, li metterei un po' nel pennello. Facciamo... Ecco, così. Abbondiamo un po'. Chiudiamo la nostra dottor Selby. Ce n'è 50 grammi qua. E facciamo il lavoro di... Far metabolizzare... La crema del pennello. Questo è un lavoro importante perché il pennello si impregna, si... Digierisce quasi, no? Questo è un pennello che io avevo fatto, avevo pensato, per il manico corto. Però per il montaggio in viso. Può essere un maiale che generalmente... Però devo dire, come ho detto l'altra volta, molto pratico il montaggio in viso. Quindi un po' d'acqua calda. E iniziamo a sciacquare il viso, innanzitutto. Bello bollente. Allora, inizio a dire che è la prima volta che uso queste lame su questo rasoio. Quindi non so come sarà due giorni di barba. Il pennello ormai è bello rodato. E la crema monta, che è un piacere. Molto spiccata la nota di lavanda, eh. Mettiamo ancora un po' d'acqua. Molto spiccata la nota di lavanda. Ecco qua. Direi che può restare un bel montaggio consistente per quello che sono i miei gusti. Allora. Appoglio l'altro pennello. Iniziamo con... Ecco, grip è eccezionale. Il risultato per ora mi sembra apprezzabile, a differenza di quello che era stato con le levette. meno incisive. incisive. 0,80 il gap vi ricordo, quindi importante, se pensate che lo start parte da 0,69, questo parte da 0,80. Testa più piatta, quindi richiede, secondo me, un angolo di attacco più ampio. Grazie. Finiamo il pelo e il risultato con questo, King Gillette, è ottimo. Allora, alla sciacquatina puliamo un attimo il rasoio e andiamo decisamente di seconda passata. Qui si è rotto un po' corretto, non è un redpoint, a fortuna. Vedete che il pennello ha tenuto tantissima crema che effettivamente l'ha scaricata molto. Un po' d'acqua ci va. Grazie. E andiamo in seconda passata. Perreggo. qui c'è questo paretto che sia rotto sono gli inconvenienti del mestiere ma poco male perché tendono subito a sistemarsi quindi mischiamo obliquo al contrapelo un po' Grazie. Ecco, perfetto, rifinitura, ma ci siamo. Ecco fatto, ok. Sciacqua il rasoio e sciacqua il viso, sciacqua anche il pennello, ovviamente. Ecco. 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 E andiamo a tamponare. E a pulire. Allora, confermata la mia tesi che questo colibride, l'home shaving, funziona molto bene con un lame importante. Con un lame dal taglio meno netto, meglio l'altro. Allora, che dire, crema da barba Selby. Classica crema da barba, diciamo economica, molto molto performante come montaggio. Come si direbbe, poca spesa, tanta resa, non c'è così tantissimo, non lo so, magari è preziosissima. La lavanda, però, secondo me sono quelle creme, diciamo, normali, insomma, che però funziona molto molto bene. Lavanda, a chi piace la lavanda, io non sono uno eccezionale, se mi piace la lavanda, però, a chi piace la lavanda, per questo, è veramente molto elegante anche come lavanda, non è di quelle lavande aggressive, di quelle lavande, però si sente molto. Dottor Selby, uruguagia, come si dice, la ripongo nella sua scatola, pennello di maiale, amici della monotonia, devo dire che col tempo si è aperto come un fiore, devo dire che sono abbastanza soddisfatto anche per il costo che aveva questo pennello, ciuffo di cosmetto di maiale sbiancato, eccolo qua, con il nostro, con la nostra scritta, eccolo qua, e sulla pelle piacevole, ben rodato, insomma, ciuffo folto, anche se qualche peletto lo perde, ma penso che sia normale, e niente, sono contento, diciamo, anche nel manico, perché consente un montaggio in viso abbastanza agevole. Passiamo al rasoio, che adesso vado a disarmare, e a sciacquare una volta disarmato, perché è importante, lo dico a tutti, pulire gli strumenti, perché tanti dicono, ma tracce di sapone, tracce di carcare, l'importante è, ogni, dopo ogni utilizzo, sciacquare molto bene e asciugare molto bene, no? Come sto facendo io, ogni pezzo lo asciugo, singolarmente, poi, per quello che si può fare, perché poi rimane sempre, comunque, con un utilizzo allungato, rimane sempre qualcosa, però così, noi abbiamo asciugato, poi lo rimontiamo, lo rimontiamo, vedete che il porretto è, come si dice, sotturato, perché purtroppo, quando si segue un porretto, è così. Comunque, lo rimontiamo, adesso è perfetto. Allora, unito a lame poco efficaci, a livello di taglio, più delicate, io non lo consiglio, unito a lame importanti, come è importante la King C Gillette, offre un risultato veramente notevole e una precisione di taglio abbastanza importante e coerentemente con il suono da Colibri, quindi vanno i dettagli, vanno i particolari, è molto agile sotto zona baffi, insomma, un'alternativa al tradizionale Start, che forse è più imponente, più massiccio, per chi vuole qualcosa di più agile e leggero, non leggero, perché forse pesa dietro più questo, non ho pesato il rasoio, perché il manico comunque è più lungo, qualcosa di più, diciamo, agile, forse, no? Io, sinceramente, preferisco ancora lo Start, dico la mia, assolutamente, però non nego l'efficacia di questo Colibri, che è ben fatto e ha un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Con cosa facciamo l'aftershave? Ma rispolveriamo una vecchia gloria, brutto, eccolo qua, l'originale brutto, originale, a prenasalice, il verde, eccolo qua, qui abbondiamo, inconfondibile, un classico degli anni 80, anni 70, noto il calcate, mentolate, ah, un vero piacere, bello fresco, no? Poi ci sono quei 3 gradi fuori, il massimo, no? Adesso lo lasciamo un attimo asciugare, e andiamo, ma lo asciugano subito, perché immediatamente evaporato, andiamo a rinforzare la nostra fragranza con le toilette, o le toilette brutto, eccolo qua, quindi, notevole, anche noi le toilette, giallo, giallo-verde, come i colori del Brasile, ecco qua. Bene, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, e niente, che vi devo dire? Buona domenica, buona barba a tutti, statemi bene, e ci vediamo alla prossima. Un abbraccio e buona barba a tutti!